Il ricordo dei propri cari che non ci sono più, un fiore, una preghiera e un pensiero sempre vivo. La visita al cimitero in occasione della ricorrenza del 2 novembre, che viene dedicata alla commemorazione dei defunti. In tanti sono rientrati anche da fuori regione, dallo scorso fine settimana, in occasione del ponte di Ogni Santi, i familiari, gli amici, per un momento al cimitero. Da termoli ai centri più piccoli, lasciati tanti anni fa, ma un legame sempre forte alle origini. Non è soltanto oggi, non è soltanto la ricorrenza, ma è una giornata particolare, che ricorda le persone care che non ci sono più, ma che sono sempre vive nel nostro cuore. La preghiera che ovviamente può avvenire in ogni momento, in ogni celebrazione eucaristica, non è soltanto la visita al cimitero, ma anche questa è un segno, un segno importante del culto dei nostri defunti. Sì, è molto importante, perché oddio, uno c'è tutti i suoi cari qui. Veniamo con le indietro, è bello stamattina che abbiamo trovato anche la messa. È stata una cosa bella per i nostri morti e per tutti. Molto, 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 però tutto l'anno ci sono, non solo oggi. Perciò dovrebbero avvenire un po' più spesso, perché i poveri morti stanno sempre spogli. C'è stata una grande affluenza, i prezzi sono stati molto contenuti, come solito, come ogni anno. Una giornata significativa. Sì, molto, per tutti i cari che non ci sono più. In particolare, sì, venire qui è un segno di come riconoscimento, un pensiero, però tutte queste persone che a noi mancano ce le abbiamo nel nostro cuore, quindi giornalmente si pensa a loro anche senza venire nel luogo sacro. Io qui ho i miei genitori, ho portato le cegnere di mio marito da Torino e vengono tutti i sabati e veniamo, a parte la giornata di oggi. Nella cappella del cimitero i sacerdoti e il bescovo Gianfranco De Luca hanno celebrato le messe e intanto sono in corso i lavori per la costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Termoli. Voi ricordate che il cimitero anticamente nel linguaggio cristiano veniva chiamato il campo dei santi, camposanto, perché la custodia dei defunti innanzitutto è di tutte le civiltà. Noi non troviamo una civiltà che non abbia avuto, anzi forse questo è stato il primo rito comune di tutte le civiltà e anche a livello artistico le prime memorie della civiltà le troviamo attraverso le tombe, non le più antiche.